Orecchini gocce di sangue. Vediamo come realizzarli. Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come realizzare dei semplicissimi orecchini per Halloween. Orecchini che vogliono rappresentare una sorta di goccia di sangue che cola. Come sempre tutto l'occorrente è nel tutorial sul mio blog, vi lascerò il link qui nelle scade nell'ufo box di questo video. Quindi cominciamo! Rivestiamo un pezzo di cartone con della carta da forno. Ci cogliamo sopra la colla a caldo ben riscaldata. Una volta che la colla si è raffreddata, possiamo colorarla con dello smalto rosso. Una volta che lo smalto è asciutto lo stacchiamo dalla carta da forno. Con un punteruolo facciamo un foro in sommità. Inseriamo anellino e monachella. Ecco quindi come si presenta la coppia di orecchini. Ho fatto anche il secondo. Ho cercato di farlo uguale al primo, ma è molto difficile con la colla a caldo. Però insomma ho cercato di farli uguali. Che ne pensate di questo progetto? Che ve ne pare? Fatelo sapere con tanti like al video e commenti qui sotto. Come sempre grazie per aver visto questo video. Spero che vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti! Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video.